Vado, vado. Hi, I found him. Oop, in my kitchen. Hi, I'm Kate. I live next door. Would you like to join us for lunch? We're going to have a typical Italian dish. Good idea, and very good English. L'inglese per te De Agostini. In edicola con il primo fascicolo, l'audiocassetta, la prima parte del dizionario intascabile fondamentale e della grammatica, ha sole mille linee. Padai, puoi vedere che lo imparo anch'io. Forse di lingue De Agostini, i più venduti nel mondo.